E' stato eseguito dai militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Campobasso il sequestro preventivo di un immobile con l'ordine di sgombero ed il divieto di accesso ai locali su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso. Si tratta di un residence nel cuore della città dove si svolgeva attività di prostituzione da parte di diverse donne, contemporaneamente l'altro reato ipotizzato l'ha messa a disposizione dei locali per l'esercizio dell'attività illecita. Parliamo di un'azione di indagine iniziata oltre un anno fa ad agosto del 2022 a seguito di una denuncia per presunte minacce sporta da un cliente abituale delle prostitute alloggiate nel residence. Le indagini hanno riscontrato come i gestori del residence consentissero che gli appartamenti venissero utilizzati per l'esercizio della prostituzione garantendo l'accesso illimitato ai clienti delle donne senza alcun controllo o monitoraggio e utilizzando i residence esclusivamente per questa attività. I clienti si procuravano l'appuntamento tramite l'uso di siti web dedicati agli annunci per incontri sessuali, approccio favorito da immagini che ritraevano le donne di diversa nazionalità in inequivocabili inviti a prestazioni sessuali a pagamento. Gli incontri preso la struttura sprovvista di servizio di portineria veniva esercitato attraverso l'utilizzo del citofono che riportava chiaramente il numero degli interni corrispondenti dove esercitava la prostituzione la ragazza scelta. Il giro di affari presunto 30.000 euro al mese per le prostitute, 8.400 euro al mese per i gestori. Il procedimento viene la fase delle indagini preliminari.